I posti di uniti, come si dice, può darsi che le procedure, diciamo, magari in futuro è più di due giorni più veloce o due tre giorni più legge, però lo schema è sempre lo stesso, fai il donifico, mandi la ricevuta del donifico che mi hai accretato, la mei poi un giorno dopo, quando è arrivato il donifico, quando lo vendificano, tu vedi comparire la tua offerta, poi uno potrebbe anche aspettare a giudicare...